buongiorno anche in periodo di pandemia non molliamo mai never give up siamo sempre pronti a fare prevenzione oggi ci sono venuti a trovare due amici due grandi fuoriclasse del calcio ve ripresento giorno deve sempre fare il controllo in ogni caso ciao buongiorno a tutti dovete sempre fare contro ottimo grazie ragazzi ciao